Mauro e Nadia li ho conosciuti da più di 30 anni e la mia mamma mi ha fatto il regalo per i miei 21 anni e ha preso un collier da loro e da lì è iniziata la nostra amicizia. Poi sono cresciuta con loro perché tutte le mie cose più importanti provengono da loro che ci hanno sempre consigliato, trattato veramente come amici e quindi la mia vita è costellata dalla nenne, da quello che mio marito mi ha regalato per la nascita delle figlie e quando sono nate le figlie adesso per i loro compleanni più importanti passiamo da loro e quindi sono una costante molto piacevole nella nostra vita. Allora quello che mi piace tantissimo di Sette gioielli è la professionalità e il rapporto umano perché che tu vada a comperarti il diamante o che vai a prendere il pensierino loro ti trattano con la stessa cortesia e ti fanno sempre sentire importante ti aprono il cuore, ti aprono la loro scelta, Nadia ti consiglia benissimo qualsiasi pacchettino faccia che sia anche da poco, ci mette lo stesso cuore e la stessa quindi questo ti fa sentire in ogni momento che tu sei importante per loro e poi Mauro ha una creatività che sorprende ogni volta e ti dici quanto bravo è assolutamente Sette gioielli io lo consiglio infatti già in passato ho mandato amici piuttosto che parenti per quello che ho detto anche prima quindi soprattutto per il fatto che ti sanno consigliare e vengono incontro ogni tua esigenza che sia piccola o importante e soprattutto perché hanno dei pezzi veramente speciali